Abbiamo presentato un'interrogazione al Ministro Franceschini perché chiediamo che intervenga urgentemente sulla vicenda del Teatro dell'Opera di Roma, perché noi consideriamo illegittimi i licenziamenti dei 182 lavoratori del Teatro dell'Opera. Per noi è incomprensibile, ieri abbiamo ascoltato in Commissione Cultura al Senato il Sovrintendente Fuortes e non ci ha convinto. Se il Teatro dell'Opera aveva presentato un piano di risaramento seguendo le indicazioni della legge Brahe senza prevedere alcun tipo di licenziamento, è del tutto inaccettabile che per risolvere poi problemi evidentemente anche di calcoli sbagliati nel preparare i bilanci di previsione, le responsabilità si facciano ricadere sul lavoro vero dei lavoratori. Allora noi chiediamo al Ministro Franceschini di intervenire per far ritirare i licenziamenti per noi illegittimi, ma soprattutto per dirci se la legge Brahe e il percorso previsto per intervenire a tutela delle tante fondazioni liriche che sono in difficoltà è ancora una legge in vigore valida, oppure ogni sovrintendente può decidere il giorno dopo di proseguire con un altro percorso come quello appunto dei licenziamenti del Teatro dell'Opera.